Che idea mi hai dato? Mi ho dato l'idea di fare il vlog Bravo, ritornare a fare il vlog Mirabilandia ci ha invitato qui appunto a soggiornare due giorni e oggi, sabato, facciamo Mirabilandia e domani Mirabice ovvero il parco acquatico e basta quindi vedete un po' i due parchi Giostra della Madonna Questa qui, volevo zoomare ma non sono giusto Fantastico Questa è stata fatta a destra Prima di mangiare Stiamo per andare a fare questa roba Addio Addio Pronto? Tantissimo, sì Tantissimo Oh 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 Yes Molto bene Molto bene Ti? Tu? Dove? Ti? Tu? Ti? Ti? 8 10 Ruote in movimento 1 2 3 4 5 6 6 6 7 7 9 10 10 11 11 13 14 14 15 15 15 16 17 18 19 20 20 21 22 21 22 23 C'è qua? M'è l'isba? Vieni fratello, devi buttarti. Occhio! Sei salvato!